Video 15 parte 17, come ho dipinto questa spiaggia al tramonto e della luna, aggiungo vernice acrilica nera alla miscela marrone. Il mio obiettivo è quello di rendere un marrone scuro di quello che ho usato prima. Io uso questo colore per dipingere le palme sul lato sinistro della marina. Queste palme saranno più grandi e più scuri di quelli precedenti sul lato destro della marina. Dipingo queste palme allo stesso modo o ho fatto gli altri. Anche qui aggiungo cespugli sotto le palme. Poi aggiungo ftalo blu e giallo per la miscela marrone. Io uso la risultante colore verde scuro per dipingere le foglie delle palme e cespugli. Questo verde è più scuro di quello che ho usato per dipingere gli altri alberi. La regola che uso è che quanto più gli alberi il colore di sfondo scuro. Questo video continuerà in parte 18.